Andiamo avanti con il deputato Sibilia, prego. Presidente, grazie di avermi dato la parola. Io le ruberò giusto pochi secondi, più o meno il tempo che ci voleva per leggere questo mero adempimento alle Camere, questa comunicazione che lei ha fatto, senza addurre le giustificazioni che lei dava dell'articolo 77 e dell'articolo 96 del regolamento. Inoltre saluto il ministro Franceschini, sono contento di vederlo quando non c'è una questione di fiducia nei pressi, insomma, la ringrazio. Io devo ritornare al punto, perché la realtà è che noi siamo convinti che questo sia un atto dovuto, è chiaro, è un mero adempimento di atto dovuto, perfetto, però non siamo d'accordo quando sulle televisioni e i giornali ci vendiamo la Camera dei Deputati come il luogo in cui si torna a lavorare il 20 agosto per il bene dei cittadini, cosa che non è vera, perché oggi qui noi non stiamo lavorando. Questo non è un lavoro, perché evidentemente non avete rispetto per il lavoro delle persone che veramente il 20 agosto stanno lavorando. Ci vogliono due minuti per fare questo mero adempimento, due minuti e potevamo tranquillamente farlo in maniera più tranquilla. E poi non parliamo soltanto di femminicidio, non possiamo parlare solo di femminicidio in questo decreto legge. Nel decreto legge ci sono anche una cozzaia di situazioni, contrasto alle violenze di genere, sicurezza e sviluppo dei paesi africani, frodi informatiche, c'è di tutto, non è solo femminicidio. Questo è importante e soprattutto non vogliamo che diventi la Camera la politica del berlusconismo, la politica che si fa in televisione e non si fa qui alla Camera. Lei ha detto che voleva far diventare questa la casa della buona politica. Allora non la vado a fare nelle TV e nei giornali, la faccia qui, convochi domani la capigruppa e cominciamo a lavorare. Quindi insomma non va bene il tempo, dovevamo essere più brevi. Ah, interessante questa lettura. C'è chi dice che invece avremmo dovuto dare più spazio, come vede è difficile mettere tutti d'accordo. Adesso ha chiesto di intervenire il... Grazie. Grazie.